Perché giovedì è grasso? Tutti i giorni salienti del carnelare, il primo giorno di apertura del carnelare e il giorno di chiusura vengono chiamati grassi. Per quale motivo? Perché si fa incetta di cibi grassi, ciò in base al fatto che appunto si festeggia e si fa scorte di cibi grassi in vista del periodo magro dell'acqua resina. Ciao al prossimo video, vi aspetto!